Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Italia Nguedirene. Questo video è la seconda parte della serie le 50 espressioni italiane più utilizzate. In questo video vi spiegherò altre 10 espressioni italiane utilizzatissime. Ma prima di tutto voglio ringraziarvi per tutti i complimenti che mi avete fatto per il primo video e inoltre cercherò di seguire i vostri suggerimenti e di parlare più lentamente. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. E allora pronti? Partenza? Via! La prima espressione di oggi è che succede? Oppure che sta succedendo? Vi faccio un esempio. Tornate a casa da lavoro e trovate tutti i vostri amici sul divano. A quel punto siete sorpresi, quindi esclamate che sta succedendo qui? Oppure che succede? Che succede? Che sta succedendo? Se non siete sicuri di avere capito ciò che vi è appena stato detto, potete chiedere Ho capito bene? Ho capito bene? Did I get it right? Se invece non avete capito l'ultima parola o l'ultima frase che vi è stata detta, potete dire Puoi ripetere l'ultima parola? Oppure Puoi ripetere l'ultima frase? Questa espressione è un po' difficile da spiegare, ma ci provo lo stesso. Se per esempio sto parlando di persone, di quanto mi danno fastidio, le persone che masticano facendo tanto rumore in generale e tu ti arrabbi dicendomi per esempio Ma io non faccio così, ma io non faccio rumore La stai prendendo sul personale in questo momento Perché io stavo parlando in generale, non di te In questo caso ti posso dire Non prenderla sul personale Non prenderla sul personale Potrebbe anche succedere che io e te stiamo parlando Io parlo, parlo, parlo Ma tu sei distratto Perché magari stai guardando la tv O perché stai pensando a qualcosa che ti è successo Quindi praticamente non hai capito niente di quello che ti ho detto Quindi potresti dirmi Scusa, non stavo ascoltando Scusa, non stavo ascoltando Anche se non mi stavi ascoltando, non sono arrabbiata Quindi ti posso dire Non importa Che ha lo stesso significato di Non ti preoccupare Non importa Quindi dopo averti detto Non importa Magari ripeterei quello che ho appena detto di nuovo Stavolta ascolta però Se vuoi augurare buona fortuna a qualcuno Che ti ha appena detto Che spera che qualcosa di bello accada Puoi dire Incrociamo le dita Incrociando le dita così Incrociamo le dita Un'altra espressione che può essere utilizzata In una conversazione è Questo spiega tutto Ti faccio un esempio Se stiamo parlando di una situazione che è successa E mi racconti un dettaglio che io non sapevo Ma che è veramente importante per questa situazione E che me la fa capire meglio Posso dire Ah Questo spiega tutto Se invece ti ho raccontato qualcosa di brutto Ma non troppo brutto Ad esempio Sai Mi è caduto il cellulare E si è rotto lo schermo Oppure Sai Ho perso 10 euro Sono cose brutte Ma non troppo Allora mi puoi dire E succede Succede Per indicare Che sono cose che succedono E non posso farci niente L'ultima espressione È da utilizzare Quando non conoscete Il nome di una persona E volete attirare La sua attenzione L'espressione è Scusi se la disturbo Scusi se la disturbo Per esempio Scusi se la disturbo Saprebbe dirmi Che ore sono? Spero che questa seconda parte del video vi sia piaciuta E vi sia stata utile per imparare nuove espressioni Mi raccomando Non dimenticate Di iscrivervi al mio canale E di cliccare sulla campanella Per ricevere le notifiche Potete trovare qui Sopra La prima parte del video E noi ci vediamo presto Ciao